Un doppio fronte, da un lato la difesa dell'unità nazionale rispetto al tentativo di un'autonomia senza controllo chiesta da Lombardia e soprattutto Veneto e dall'altro l'impegno a portare a termine le procedure concorsuali per 10.000 giovani secondo il piano lavoro immaginato dalla regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca non risparmia stoccate al ministro Matteo Salvini. Devo dire che l'atteggiamento del ministro Stefani è stato estremamente corretto, collaborativo, cordiale. Abbiamo posto degli interrogativi, credo, di buon senso. Come si fa a firmare un accordo se non abbiamo definito prima il fabbisogno standard? Si erano imbarcati, avevano già definito l'accordo che avrebbe comportato, ripeto, un disastro finanziario per il Sud. Per adesso, diciamo, la operazione è stata sventata. Il furto con destrezza tentato da Salvini è stato sventato. Intanto sarà con ogni probabilità la mostra d'oltremare ad ospitare il maxiconcorso per l'assunzione e la pubblica amministrazione di migliaia di giovani. Ho chiesto al ministro, siccome abbiamo impegnato per l'espletamento del concorso, il Formez, che è un'agenzia partecipata dal Ministero della Funzione Pubblica, per ragioni di trasparenza, per evitare che fosse la regione a gestire questo concorso. Abbiamo chiesto però un'accelerazione dei tempi. Il risultato è questo. Noi contiamo di far pubblicare sulla gazzetta ufficiale il bando per il concorso fra ultima settimana di aprile e prima settimana di maggio. Deve rimanere pubblicato per 30 giorni, dopodiché bisogna fare il concorso vero e proprio.